Approvata in Commissione e bilancio la finanziaria del 2024 per l'assessore Falcone, siamo nei tempi di legge, un segnale di fattività verso i siciliani. Dopo l'intenso e proficuo lavoro di questi giorni, l'approvazione della legge di stabilità e del bilancio relativa agli anni 24-26 della Regione in Commissione rappresenta un positivo e concreto segnale di fattività che il Governo e il Parlamento mandano alla Sicilia e ai siciliani. Un ringraziamento al Presidente Dario D'Aidone, ai deputati della maggioranza e ai deputati dell'opposizione, dopo aver lavorato anteponendo l'interesse della nostra Regione a tutto. Il Governo Schifani rispetta il calendario che si era prefissato per varare nei tempi previsti della legge la finanziaria del 2024. Un documento economico che si basa su questi pilastri, sostegno ai comuni, aiuti per imprese e lavoro, lotta al precariato, stabilità per i servizi siciliani, raggiungere questo obiettivo darà prova di come la Regione siciliana possa saper fare le cose per bene. Questo quanto dichiarato dall'assessore regionale dell'economia Marco Falcone, che commenta così il via libera finale della seconda commissione ARS del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 24-26 della legge di stabilità regionale 24-20. Sull'approvazione in commissione bilancio interviene il deputato regionale Agrigentino Pace, affermando come l'approvazione della legge di stabilità 24-26 dimostra ancora una volta una grande coesione all'interno della maggioranza e il rispetto della tempistica che ci siamo dati per arrivare all'approvazione definitiva della manovra entro fine anno. La democrazia cristiana, prosegue Pace, auspica che in aula venga raggiunto un accordo con le opposizioni che ci permetta di scongiurare l'esercizio provvisorio. Sarebbe un risultato storico per tutti. La Sicilia continua Pace, è governata dal centro-destra, ma è di tutti e vanno tutelati gli interessi della popolazione nel suo complesso. In questa manovra, infatti, vengono previsti fondi per i comuni, per la progettazione e la realizzazione di opere e innovazioni sul territorio, finanziamenti a fondo perduto da destinare all'impresa e per l'assunzione del personale a tempo indeterminato, misure per eliminare il precariato e consentire la stabilizzazione sia degli ex-PIP che dei lavoratori ASU. Adesso, conclude Pace, mi auguro che il presidente dell'ARS Gaetano Calvagno, di concerto con il governo, trovi la condizione politica per condividere la finanziaria anche con le opposizioni nel rispetto dei ruoli e arrivare all'approvazione entro il 31 dicembre prossimo.